Il Movimento 5 Stelle vuole riportare l'onestà e la legalità in comune e per questo proponiamo due cose molto concrete. La prima si chiama whistleblowing. Whistleblowing è una sorta di bocca delle denunze attraverso la quale i cittadini ma anche i dipendenti comunali possono segnalare casi di malamministrazione e casi di presunta corruzione ed essere poi tutelati tutelati dall'anonimato ed avere poi la certezza che questi casi verranno analizzati per accertare eventuali responsabilità. La seconda proposta è quella del pool anticorruzione, cioè vorremmo creare un gruppo specialistico di tecnici e avvocati che vada a indagare tutte le principali operazioni patrimoniali urbanistiche degli ultimi cinque anni e accertare così se vi sono stati dei situazioni di danno erariale o responsabilità ed eventualmente mandare le apposite relazioni alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Queste cose si possono fare, sono molto concrete, vanno a beneficio di tutti i cittadini ed è per questo che vi invitiamo a votare per voi. Votate Movimento 5 Stelle, votate per il sottoscritto come candidato sindaco, votate per l'onestà.